giuda iscariota dai capi del sinedrio 29 marzo 1947 naturalmente parla maria valtorta giuda giunge a notte alla casa di campagna di caifa ma c'è la luna che fa da complici all'assassino illuminandogli la strada deve esser ben sicuro di trovare là in quella casa fuori le mura coloro che egli cercava perché altrimenti penso che avrebbe cercato di entrare in città e sarebbe andato nel tempio invece sale sicuro fra gli olivi del piccolo colle è più sicuro questa volta dell'altra perché ora è notte e le ombre e l'ora lo proteggono da ogni possibile sorpresa le vie della campagna sono deserte ormai dopo esser state percorse per tutto il giorno dalle turbe dei pellegrini che vanno a gerusalemme per la pasqua persino i poveri lebrosi sono nei loro specchi e dormono i loro sonni di infelici smemorati per qualche ora dalla loro sorte ecco giuda alla porta della casa biancheggiante al lume della luna bussa tre colpi un colpo tre colpi due colpi persino il segnale convenzionale sa a meraviglia e deve essere proprio un segnale sicuro perché la porta si socchiude senza il preventivo sbirciare del portinaio dallo spioncino aperto nella porta giuda sguscia dentro e al servo portinaio che lo sequia chiede l'adunanza è raccolta? sì giuda di carriot al completo potrei dire conducimi ad essa devo parlare di importanti cose svelto l'uomo chiude con tutti i chiavistelli la porta e lo precede per l'andito semibuio fermandosi davanti ad un uscio pesante al quale bussa il brusio delle voci cessa nella stanza chiusa e lo sostituisce il rumore della serratura e il cigolio della porta che si apre gettando un cono di luce viva nel corridoio buio tu? entra dice quello che ha aperto la porta e che non so chi sia e giuda entra nella sala mentre chi gli ha aperto chiude a chiave di nuovo vi è un momento di stupore o perlomeno di agitazione vedendo entrare giuda ma lo salutano in coro la pace a te giuda di simone la pace a voi membri del sinedrio santo saluta giuda viene avanti che vuoi? gli chiedono parlarvi parlarvi del Cristo non è più possibile che si vada avanti così io non vi posso più essere di aiuto se voi non vi decidete a prendere decisioni estreme l'uomo è in sospetto ormai ti sei fatto scoprire stolto lo interrompono no ma voi stolti voi che per una stupida fretta avete fatto delle mosse sbagliate lo sapevate bene che io vi avrei servito non vi siete fidati di me hai memoria labile giuda di simone non ti ricordi come ci lasciasti l'ultima volta? chi poteva pensare che tu ci eri fedele a noi quando proclamasti a quel modo che non potevi tradire lui? dice Elchia ironico serpentino più che mai e credete che sia facile giungere ad ingannare un amico? l'unico che veramente mi ami? l'innocente? credete che sia facile giungere al delitto? giuda è agitato cercano di calmarlo e lo blandiscono e lo seducono o almeno tentano di farlo facendogli osservare che il suo non è un delitto ma un'opera santa verso la patria alla quale egli evita rappresaglie dai dominatori che già danno segni di intolleranza per queste continue agitazioni e divisioni di partiti e di folle in una provincia romana e un'opera santa anche verso l'umanità se proprio egli è convinto della natura divina del messia e della sua missione spirituale se è vero ciò che egli dice lungi da noi il crederlo non sei tu il collaboratore della redenzione? il tuo nome andrà associato al suo nei secoli e la patria ti annovererà fra i suoi prodi e ti onorerà delle più alte cariche un seggio è pronto per te fra noi vi salirai giuda darai leggi ad israele oh non dimenticheremo ciò che tu hai fatto per il bene del sacro tempio del sacro sacerdozio per la difesa della legge santissima per il bene di tutta la nazione fai solo di aiutarci e poi noi te lo giuriamo io te lo giuro a nome del potente padre mio e di Caifa portante l'Ephod tu sarai l'uomo più grande di Israele più dei tetrarchi più dello stesso mio padre ormai pontefice deposto come un re come un profeta sarai servito e ascoltato che se poi Gesù di Nazareth non fosse che un falso messia anche se in realtà non sarebbe passibile di morte perché le sue azioni non sono da ladrone ma da folle ecco che ti ricordiamo le parole ispirate di Caifa pontefice tu sai che colui che porta l'Ephod è irrazionale parla per suggerimento divino e profetizza il bene e il da farsi per il bene Caifa ricordi? Caifa ha detto è bene che un uomo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione fu parola di profezia in verità fu tale l'altissimo parlò per bocca del sommo sacerdote sia ubbidito dicono in coro già teatrali e simili ad automi che devono fare quei dati gesti quei lai di burattini che sono i membri del gran consiglio del sinedrio Giuda è suggestionato sedotto ma ha una radichetta di buonsenso se non di bontà sussiste ancora in lui e lo trattiene dal pronunciare le parole fatali circondandolo con deferenza con simulato affetto lo incalzano non credi a noi guarda siamo i capi delle ventiquattro famiglie sacerdotali gli anziani del popolo gli iscribi i più grandi farisei d'israele i rabbi sapienti i magistrati del tempio il fior di israele è qui intorno a te pronto ad acclamarti e ad una voce ti dice fa questo perché è santo e gamaliele dov'è? e giuseppe e nicodemo dove sono? e dov'è eleazzaro l'amico di giuseppe? e dov'è giovanni di gas io non li vedo gamaliele è in grande penitenza giovanni presso la moglie incinta è sofferente questa sera eleazzaro non sappiamo perché non sia venuto ma un malore può colpire chiunque all'improvviso non ti pare? riguardo a giuseppe e nicodemo non li abbiamo avvisati di questa seduta segreta e per tuo amore e per cura del tuo onore perché nello sfortunato caso che la cosa fallisse il tuo nome non andasse riportato al maestro noi tuteliamo il tuo nome noi ti amiamo giuda novello maccabeo salvatore della patria il maccabeo combatté la buona battaglia io commetto un tradimento non osservare le particolarità dell'atto ma la giustizia del fine parla tu o sadoc scriba d'oro la tua bocca fluisce preziose parole se gamaliele è dotto tu sapiente sei perché sulle tue labbra è la sapienza di dio parla a costui che tituba ancora quella buona pelle di sadoc si fa avanti e con lui il decrepito canania una volpe scheletrita e morente al fianco di un astuto sciacallo robusto e feroce ascolta o uomo di dio comincia pomposamente sadoc prendendo una posa ispirata e oratoria il braccio destro messo ciceronianamente in avanti il sinistro occupato a sorreggere tutto quell'ingombro di pieghe che costituisce la sua veste di scriba e poi alza anche il sinistro braccio lasciando che il suo monumento di vesti si scomponga e si disordini e così a volto e braccia levate verso il soffitto della stanza tuona io te lo dico te lo dico davanti all'altissima presenza di dio maranatà fanno eco tutti curvandosi come se un soffio supremo li curvasse e poi rialzandosi con le braccia incrociate sul petto io te lo dico è scritto nelle pagine della nostra storia e del nostro destino è scritto nei segni e nelle figure lasciate dai secoli è scritto nel rito che non ha sosta dalla notte fatale agli egizi è scritto nella figura di Isacco è scritto nella figura di Abele e ciò che è scritto si avveri maranatà dicono gli altri con un coro basso e lugubre suggestionante con i gesti di prima i volti bizzarramente colpiti dalla luce dei due lampadari accesi agli estremi della sala di mica pallidamente violacea emananti una luce fantasmagorica e veramente questa accolta di uomini quasi tutti bianco vestiti coi coloriti pallidi od olivastri della loro razza rese ancor più pallidi e olivastri dalla luce diffusa sembrano proprio un'adunanza di spettri seri non ma di spettri di spettri di spettri di spettri di spettri di spettri